Fuori dall'Aula, consiglieri comunali a confronto. Bentrovati, nuovo appuntamento con Fuori dall'Aula, consiglieri comunali a confronto, una puntata dedicata in modo particolare alla cultura, ai motori culturali cittadini, quelli già partiti, quelli che dovranno partire in qualche modo a breve. Ne parliamo con Davide Frisoni di Patto Civico, Carlo Rufospina di Forza Italia. Gli argomenti sono tanti, quelli di cui parlare, però prima di sentire voi direi di sentire una breve intervista che abbiamo realizzato proprio qualche giorno fa in occasione dell'inaugurazione della biennale del disegno sabato scorso al Teatro degli Atti al sindaco Andrea Agnassi che ha parlato proprio, oltre che della biennale, anche di come è cambiato il rapporto tra Rimini e la cultura in questi ultimi anni. Allora sentiamo quello che ha detto, magari ci sono degli spunti. La biennale è un'intuizione. Se penso a sei anni fa, questa città era all'inizio di un cambiamento nell'hardware, nei grandi contenitori culturali, non c'erano. Ed era l'inizio anche di nuove proposte culturali, immateriali, come la biennale. Ricordo il non capito di allora, cosa si sta facendo, perché ad esempio dal grande Capodanno Rai, un evento popolare che andava in televisione e che costava un milione e tre, si era passati invece a mettere dei contenuti, e oggi sono diventati clamorosi, un prodotto turistico, ad esempio nel cantiere del Teatro Galli. Perché la biennale del disegno, questa profondità lavorata che va a cogliere il disegno come arte primaria? Ecco, oggi la città è cambiata. Fra poco, incrociando le dita, inaugureremo il Teatro Galli. Il Museo Internazionale Fellini calerà nel Castel Sismondo, nel Fulgor, è in questa piazza, questo circa Marcort tra il Fulgor e Piazza Malatesta. La biennale entra, dopo sei anni, in questi contenitori che sono il cambiamento dell'hardware, dei motori culturali, e afferma il suo nuovo software, il nuovo software della città, che è un software, cioè una proposta in materiale profonda, acuta. Si possono fare le grandi mostre, si va tutti in fila, con qualche battuta si può dire da Van Gogh a Van Cleef, anche se Van Cleef magari è un profumo. Si sta due ore in fila, si guarda il grande quadro e poi si va via. La biennale invece è un tessuto, è una tessera di un mosaico della Nuova Rimini. È andata a scavare a fondo, è andata a seminare anche un'attenzione verso la cultura che questa città magari aveva leggermente dimenticato. Un'attenzione verso la cultura che la città aveva dimenticato. Frisone, insomma, abbiamo sentito tanti dei punti che poi magari affronteremo anche nel corso di questa puntata insieme. Cosa ne dice? Beh, condivido. Finalmente a Rimini si può parlare di cultura quando era quasi un tema tabù fino a qualche anno fa. Sicuramente l'amministrazione Agnassi in questo, anche nei primi cinque anni, avendo come assessore Massimo Pulini, che è uno famoso storico dell'arte, ma anche un famoso artista, quindi che ha a cuore in qualche modo il tema culturale, ha iniziato una svolta. Questa svolta sta proseguendo, questa svolta sta, come dire, portando anche nuove intuizioni, un nuovo modo di concepire la città e di concepire il rapporto della città con la cultura. Cosa intendo? Intendo dire che il fatto di mettere la cultura un po' al centro dell'attenzione, purtroppo non ancora economica, ci lavoreremo su questo, al centro dell'attenzione alla cultura come crescita sia culturale per la città, ma anche possibilità di incontro nel campo del turismo, nell'ambito del turismo, diventa fondamentale, perché i dati odierni dicono che la cultura produce turismo, cioè non solo fa arrivare più turisti, che è un po' un accontentarsi, ma fare cultura produce turismo, quindi porta la gente a vedere la tua città e la città è più predisposta a concepirsi e a proporre attività culturali. I contenitori un po' li conosciamo tutti, dal Galli al Fellini al nuovo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, su cui si sta già lavorando in Piazza Cavour, nella sede della Rengo e del Podestà, cioè sono, come dice, come ha detto poc'anzi nell'intervista del nostro sindaco, sono intuizioni, intuizioni che stanno prendendo forma e questo è la cosa più importante, perché non basta un'intuizione, bisogna iniziare a dare una forma a queste intuizioni, questa forma si sta realizzando. Adesso tutto il lavoro si deve spostare sui contenuti, questo è il vero grande lavoro culturale da fare. Questo percorso Rufospina lo vede che sta portando la cultura un po' al centro dell'attenzione a Rimini? Ma chiaramente io non vedo assolutamente nulla di tutto questo, diciamoci la verità, noi prima abbiamo sentito una intervista del sindaco che ha snocciolato una serie di ignassiate delle sue proprio, utilizzando termini quali contenitore, hardware, software, sostanzialmente senza dire nulla. Ha detto soltanto delle parole tendenzialmente vuote, che non vogliono dire nulla, perché innanzitutto i contenitori, cosa vuol dire contenitori? Io conosco i contenitori di vernice, non so, non capisco cosa vuol dire contenitori di arte, noi abbiamo a Rimini dei monumenti, ecco quelli sì. Allora utilizziamo i termini loro propri, cioè noi cominciamo a parlare di monumenti, cominciamo a parlare di mostre, cominciamo a parlare di valorizzazione del patrimonio, cominciamo a parlare di tutto quello che sta intorno all'entroterra, alle bellezze culturali riminesi, viste anche in prospettiva con l'entroterra. D'altra parte in questa zona di Romagna abbiamo un'entroterra comune per la comune origine non soltanto romana, ma la comune origine malatestiana. Ecco, io vorrei sentire parlare di questi temi, di questa biennale del disegno che effettivamente è da sei anni e l'unico evento propriamente culturale che ci stanno propinando dal comune. Sinceramente mi sembra molto poco, un evento di nicchia che sostanzialmente fa uno storico di 25 mila visitatori all'anno. Oggi l'amministrazione usa i dati del primo settimana, parliamo di 5.300 ingressi. Esatto, 5.300 ingressi, vedremo alla fine quante ne avrà totalizzati, lo storico è di 25 mila, ancora ne devono entrare 20 mila, non è una cosa banale, ma anche dovendo essere 30 mila, 35, 40 mila stiamo parlando di un qualcosa di nicchia che va bene che ci sia, ma io faccio notare tutta, tutta la organizzazione culturale del comune di Rimini si base esclusivamente sulla biennale del disegno, così non può essere, perché quando il sindaco pensa alla cultura, pensa soltanto a tre cose sostanzialmente, alle venti di nicchia come la biennale del disegno che sono poca roba, parliamoci chiaro, poca roba. Pensa alle soliti musica, DJ7, sardoncini, e quant'altro, così come ha fatto Stuprandi in una maniera indegna al Castello e Smondo la settimana scorsa, col musical Inside Festival e pensa a Fellini, ecco noi questa è la nostra cultura, è bene che ce lo capiamo, noi abbiamo una cultura stracciona, abbiamo una cultura provinciale, il sindaco continua con questa idea della cultura provinciale regata alla spiaggia, ai sardoncini, a Fellini, alla musica e a questi eventi di nicchia come la biennale del disegno, obiettivamente di minore importanza. Sentiamo Frisoni. Beh, ribadisco, sentire parlare di stracci, di cultura stracciona, quando si parla di un museo internazionale Fellini, quando si parla di un museo di arte moderna e contemporanea che diventerà, e adesso probabilmente Rufo non è bene a conoscenza di quale collezione si tratta, ma qui parliamo di artisti internazionali, riconosciuti in tutto il mondo, da Vanessa Bicroft a Bai, ai contemporanei, anche Pignatelli, Pietro Scabucci, anche in questo ambito qui, portare a Rimini, riuscire a portare a Rimini un museo di quella portata lì, è una cosa... Che sarà poi il Palazzo del Podestà... Esatto, esatto. Portare un'esposizione come quella, fissa a Rimini, è per Rimini un'opportunità enorme, perché fa il verso a tante altre grandi collezioni a Roma, Milano, Torino, cioè entriamo in un ambito culturale elevato, contemporaneo. Però, ribadisco, il concetto di pensare come cultura stracciona, di nicchia sono d'accordo, il disegno è, sicuramente ha un pubblico di nicchia, ma questo non vuol dire che non sia importante, cioè io non riesco a capire perché bisogna andare contro... No, no, nessuno ha mai detto di andare contro all'avvenimento del disegno, è l'unica cosa che c'è, è detto di nicchia, facciamo altro. Da qualche parte sei partiti, sei partiti da una sensibilità... Sei partiti da una sensibilità particolare, sicuramente, come quella... lei, dall'assessore Pulini, in cui vedeva, giustamente, perché la Biennale del Disegno non c'è in Europa, non c'è un'altra Biennale del Disegno, c'è un altro evento come questo, dopodiché... Fatevi una domanda e datevi una risposta. Eh, la risposta è quella che era necessaria, probabilmente, e quindi si è iniziato a fare... No, 25 mila visitatori. 25 mila visitatori, allora, quindi cosa vogliamo? Vogliamo fare le mostre, come accennava prima, normalmente anche il sindaco, dove dentro si sta tutto di più per fare una cultura vaga? No, la cultura vaga non ci interessa, ci interessa fare dei progetti. Su questi stiamo lavorando, appunto, dal Fellini, piuttosto che al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, alla rinascita, finalmente, del Teatro Galli, no? Con tutto quello che vuole dire, per la città, come un simbolo che rinasce. Non mi sembrano cose da poco, io posso capire che, come dire, nella verve politica, nella discussione politica ci stia, come dire, dare contro quell'altro perché bisogna farsi grandi noi. A me questa è una posizione che, Ruffo lo sa, è una posizione che a me non piace. Preferisco iniziare a dire, i progetti ci sono, li stiamo realizzando, ci vuole tempo, ci vogliono soldi, tanti soldi, perché la cultura si sa e è risaputo che senza il pubblico non si sostiene, senza la parte pubblica di economia non si sostiene da sola, ma allora il punto è, vogliamo scommettere scultura sapendo che ci costano molti soldi? Sì o no? Ci vuole molto tempo? Ci interessa? Sì o no? Questo è il vero punto, perché se ci interessa andiamo avanti, se invece decidiamo che Rimini o la cultura deve ritornare a essere il baratro che era prima, allora è una responsabilità politica che uno si prende e si prendono le conseguenze. Ruffo Spino. Allora, innanzitutto vorrei semplificare la discussione, allora io desidero che la cultura Rimini torni, o meglio torni, incominci a partire innanzitutto da Rimini, non deve partire da altro, non deve partire da cose che inventiamo soltanto noi e che probabilmente proprio perché le inventiamo soltanto noi ci sarà un motivo, dato che nessuno ci aveva pensato prima, probabilmente perché non portano a quel valore aggiunto. Io per carità non ho nulla contro la Biennale del Disegno, ma non può essere l'unica cosa su cui si imperniano sei anni, sette anni di amministrazione di ignassi sulla cultura. Noi facciamo soltanto quell'evento, la Biennale del Disegno, da sette anni, mi sembra che anche soltanto così, dicendolo, ricordandolo agli ascoltatori, ai riminesi, ai cittadini, anche loro dovrebbero capire, insomma loro non è che è stato fatto tanto. Io vorrei ripartire da Rimini, da quello che noi abbiamo, non siamo una città senza passato, non siamo una città senza monumenti, non siamo una città senza cultura, partiamo dalla valorizzazione della nostra cultura. Io le settimane scorse sono stato, mi sono visto con un noto esponente della cultura riminese, di cui adesso non voglio fare il nome chiaramente per non tirarlo in ballo evidentemente, ma facevamo un ragionamento molto ampio sul fatto che i riminesi proprio non conoscono quello che è il loro rettaggio culturale, non sanno chi era Sigismondo Pandolfo Malatesta, non sanno chi era Augusto, non sanno chi era Tiberio, non sanno chi erano i vari uomini di cultura della corte di Sigismondo, non sanno neanche le vicende dello stato pontificio di Palazzo Garampi che sostanzialmente era il cardinale legato pontificio, tutte queste vicende che noi vediamo come monumenti all'interno della nostra città, perché i monumenti sostanzialmente sono lì per attestarci un passato. Ecco la gente, i riminesi passano in mezzo a questi millenni di storie di bellezza senza sapere nulla a riguardo, vedendo le mura cittadine che si stanno letteralmente sgretolando il ponte di San Vito Romano che abbiamo a San Vito, si sta letteralmente sgretolando, ma non sarebbe meglio cominciare da lì restaurando tutte le nostre mura di Cinta, restaurando il ponte di San Vito, restaurando tutti i nostri monumenti, partendo dall'Arengo, partendo dal Palazzo del Podestà, ma non facendo le solite mostre di autori che saranno anche i contemporanei, ma non soltanto c'è il contemporaneo, anche perché il contemporaneo lo conoscono in pochi, è d'accordo che bisogna cercare di aiutare le persone a rendersi adotte anche del contemporaneo, ma non possiamo pensare soltanto a quello, non possiamo fare soltanto gli eventi di autori improbabili che Gnassi ha conosciuto un minuto prima soltanto perché Pulini gli ha detto come si chiamavano e ce la vogliono vendere come se stessero portando Mondrian, Van Gogh o Cézanne a Rimini, non è vero, perché ancora non si sono probabilmente ancora accreditati, allora noi cerchiamo di fare un ragionamento d'ampio respiro, la cultura non è una cosa che si banalizza o che si può banalizzare sul fotografo attuale che probabilmente fra 50 anni avrà un nome, noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo, ripeto siamo una città che ha un retaggio, non siamo il paesino fondato nel 1950. Frisoni mi sembra di capire che Rufo Spina dice va bene insomma eventi di nicchia anche però bisognerebbe tenere il piede in tutte e due le staffe insomma anche su... Noi sull'altro non teniamo nulla, parlano del teatro, il teatro è stata una grande battaglia del centro-destra che finalmente sotto l'amministrazione Ravaioli, Ravaioli è stata approvata. Noi parleremo subito dopo del teatro, sentiamo... Ma giusto, per carità. Beh io essendo un artista vivendo d'arte mi trovo completamente in disaccordo che non bisogna puntare l'attenzione sui contemporanei, perché il contemporaneo è quello che accade adesso. Se non avessero ragionato così i papi o i grandi signori del passato, valorizzando Michelangelo, Leonardo, Raffaello e tutti i grandi della nostra storia, non avremmo conosciuto questi grandi artisti qui, ma tutti sarebbero rivolti al passato. È cambiata la storia, è cambiato il mondo, benissimo. Vogliamo valorizzare i monumenti? Sono d'accordo, ci sto. Ci sto, sono pienamente... Su quel argomento lì sono completamente d'accordo. Ma sul fatto che bisogna istruire i riminesi che fino a oggi non hanno avuto voglia di farlo, cioè non è che facendo delle mostre sugli riminesi li acculturizzi queste persone qui. Se non vogliono lo fanno, non lo fanno. Io passo tutti i giorni sotto l'arco d'Ogusto a piedi. C'è sempre i riminesi che si passano con lo scooter. E ora, è difficile istruire uno... O fa urinare il cane. O fa urinare il cane, giustamente. Ma adesso non è una vergogna. Non è una vergogna. Perfetto. E allora, gli strumenti per, come dire, per culturarsi sulla storia dei riminesi ci sono, e sono sempre stati a disposizione di tutti, dalla biblioteca in giù ce ne sono tantissime. Eh, senza un direttore da nove anni. Non è stata lasciata... Senza un direttore da nove anni, la biblioteca più antica d'Italia. Più antica d'Italia. Non è stata abbandonata, lo sai bene che non è stata abbandonata, perché abbiamo fatto anche una commissione, ultimamente hai visto che la biblioteca sta andando avanti molto bene anche. Ha avuto anche molta fruizione in più in confronto ad altri anni. Per cui, voglio dire, un conto è vero direttore, magari si trova un direttore che non è capace, e quindi magari fa peggio di un pool di persone, e invece riescono a mantenere viva e vegeta. No, vegeta, viva. Punto. Per cui io, come dire, non è che il contemporaneo elimina la cultura antica. Devono andare avanti per il passo. Su il mio impegno, il consigliere Spina, il caro amico Rufo, sa il mio impegno sulla valorizzazione della nostra storia. Partendo da Porta Galliana, che è stato il primo intervento da me fortemente voluto, e sta andando avanti. Quindi, purtroppo, speravo ci fosse una velocità diversa, invece mi sono accorto che purtroppo la burocrazia ha veramente dei meccanismi quasi incomprensibili per una persona normale, figuriamoci per un artista. Però è un lavoro che si sta facendo, non può dire che non si sta facendo. Si dice che non si valorizza, si dice che puoi fare la passerella e la passerella non va bene, fare la piazza sull'acqua e la piazza sull'acqua non va bene. Insomma, vuol dire, quello che fai non va mai bene, però lo fai per valorizzare le cose che hai. Adesso, abbiamo spostato, rifatto piazza malatesta, non puoi dire che quello non è comunque una valorizzazione del castello, o della piazza malatesta in sé, quindi castello e teatro oggi, che poi diventerà un'ulterore piazza dell'arte. Non possiamo raccontarci delle storie false, è vero. Poi, sulle mura, sono d'accordissimo, sto già lavorando, mi vedo spesso anche con il suo intervento per capire come poter avanti, portare avanti un progetto di recupero delle mura antiche. Ma, amici miei, cioè, ci vuol tempo, ci vogliono i soldi, ci vogliono sponsor, anche se sono coinvolti, magari, magari ce ne fossero tanti, magari. Però, insomma, il lavoro si sta facendo, non si può dire che non si sta facendo. Io devo dire la verità, a onor del vero, a me dispiace che ogni volta che ci sono queste trasmissioni mi debba confrontare con l'amico Frisoni su questi temi. E chi se no? Perché chiaramente con l'amico Frisoni tante cose ci accomunano. Io voglio dare atto che l'intervento che è stato fatto, che l'unico intervento, sostanzialmente sotto l'amministrazione Gnassi, che è stato deliberato e deciso dall'amministrazione Gnassi, grazie al collega Frisoni, ovvero un importantissimo intervento archeologico, quello di Porta Galliana, è sicuramente un intervento fondamentale. Noi dobbiamo fare interventi di questo genere. Però io ripeto, un intervento archeologico che è stato fatto bene, che appoggiamo tutti bene, ciò non toglie l'assoluta nullità di tutti gli altri interventi. Perché io qui mi sono fatto un piccolo elenco. Sulla Rimini Romana niente, sull'anfiteatro non abbiamo niente, sulla validizzazione del centro storico niente, la biblioteca niente, l'abbiamo detto, il Palazzo della Rengue, il Podestà niente, adesso ci vogliono mettere i fotografi. Su Castel Sismondo abbiamo Fellini e il Musical Inside Festival. Cioè, questo è quello che l'amministrazione ci propina. Poi dopo possiamo dire qualsiasi cosa che ci piace, però non possiamo venire fuori da questo dato. Il dato è questo, che noi abbiamo una cultura riminese sotto l'amministrazione Gnassi appiattita sui concetti fondamentali di sardoncini, DJ set, musica ed eventi di nicchia. Poi dopo abbiamo interventi forse strappati per i capelli e lodevolmente li faccio le congratulazioni al collega Frisoni, col massimo apporto, secondo me, di parte dell'opposizione, almeno il mio apporto ce l'ha avuto, su interventi archeologici come quelli di Porta Gagliana, giustissimo. Però noi stiamo qui a parlare di una Rimini che è stata recentemente stuprata con i buchi nelle mura malatestiane e mentre le mura malatestiane sono state bucate e non si è riuscita a buttare giù l'intervento di brutalismo architettonico di Viganò. Ci sto lavorando. Di questa arte che è espressione, però intanto è sempre lì ed è stato anche sistemato, è espressione di un movimento artistico che si chiama brutalismo. Vi rendete conto? Bucchiamo le mura malatestiane e ci teniamo il brutalismo. Allora io penso che qualsiasi ragionamento in termini culturali non possa prescindere dalla valorizzazione della qualità della vita, dell'estetica della città, della bellezza del tempo storico. Non possiamo continuare a fare gli eventi e mettere le brandine in piazza oppure le panchine. Piazza Malatesta che è stata poi città. Ma no, ma prevede il centro storico. Abbiamo un sacco di piazzettine nuove. Sicuramente è corretto. Il centro storico non possiamo dire che non si è guadagnato in questa amministrazione. Noi abbiamo tutto il problema del mercato ambulante che sostanzialmente crea, anche oggi, scusate, oggi è mercoledì. Chi volesse venire dalla zona monte alla zona mare passando per la città, oggi gli era impedito, doveva fare una fila almeno di mezz'ora, tre quarti d'ora. Questo secondo voi è un qualcosa pertinente a una città del ventunesimo secolo. Ditemi voi, chi ancora tiene una città sostanzialmente in scacco o degli eventi o del mercato, sostanzialmente quattro giorni alla settimana. Perché noi abbiamo il mercato, nel fine settimana abbiamo gli eventi, lo spostiamo in una zona in cui c'è più viabilità e si riesce a conciliare con l'esigenza del centro storico. Perché nel sistema mercato siano arrivate risposte piuttosto nette. No, perché torna col concetto del centro storico che deve essere la culla della cultura riminese. Perché se è vero che la spiaggia, abbiamo una spiaggia magnifica, che deve essere la culla della piadina, deve essere la culla della brandina, del rimini limestyling, cioè del modo di vivere alla riminese, giustamente. Ma il centro, possiamo lasciarlo il luogo della cultura? Non stupriamolo sempre con quei cubi orribili, illustrativi, con quei parallelepipedi che la giunta Agnassi mette ovunque. Abbiamo quello sceno allestimento, quello sceno allestimento in piazza Cavour adesso. Hanno tolto quelle pali illustrative del Parco del Mare, hanno messo questo allestimento che sembra un Luna Park, un parco giochi. Questo è il modo con cui Agnassi pensa alla città. Adesso immagino sia il piano urbano della mobilità. Basta, non si può fare così, abbiamo questi cubi. Però dopo se lamentiamo che la gente non conosce i progetti che ci sono sulla città, cioè una volta che si fa un intervento discutibile dal punto di vista esternico, ma quella è una questione personale. Ma se lo dobbiamo tenere altri quattro anni, quelli altri tre anni? Ma no, ma basta. Non so quanto è previsto chi stia, però sicuramente aiuta la gente a capire come sta cambiando la viabilità a Rimini. Propaganda continua, propaganda continua. Non è propaganda, sono lavori che stanno facendo. Propaganda, si chiama propaganda. È una cosa che sai anche che non realizzerai mai. Agnassi vuol far capire alla gente i lavori che sta facendo, ci mette la faccia e va in tutte le assemblee di tutti i vari cittadini, nei vari quartieri a dire guardate io sto facendo questo, questo e quest'altro. Siccome non ci va, perché se no viene contestato, vuole fare queste cose sostanzialmente di grande comunicazione con i cartelli, con i cubi, con i parallelepipedi e con il Luna Park, perché quello in Piazza Cavour è un Luna Park, sembra quasi un Luna Park per bambini. Ecco, allora io dico una cosa, faccia in modo diverso la comunicazione, non vado a rovinare Piazza Cavour, perché Piazza Cavour non è di Agnassi, è di tutti quanti noi. Andiamo verso Castel Sismondo, vi aggiungo su una nota che è arrivata questa mattina dall'amministrazione in merito agli interventi in Piazza Manatesta, perché durante le campagne di scavo, quelle relative al Giardino del Castello, che è il secondo stralcio dell'intervento, sono stati trovati alcuni reperti archeologici lungo le murari nascimentali, nelle vicinanze del fabbricato dell'Ausl. in accordo con la soprintendenza, quindi si sta cercando di predisporre il modo migliore per valorizzarlo e questa è una nota arrivata adesso, insomma solitamente quando si scava qualcosa si trova. Ci spostiamo verso Castel Sismondo, perché l'abbiamo citato più volte, anche collegato al nome di Federico Fellini, sappiamo che c'è un museo che lì troverà in qualche modo spazio, c'è anche già un bando internazionale europeo per quanto riguarda il Museo Fellini, ci sono dei soldi che sono arrivati dal governo, 9 più 3, in totale 12 milioni per il progetto. Rufo Spina, cosa ne pensa? Ma allora innanzitutto… Domanda retorica questa. No, cosa devo dire? Penso tutto il male possibile della destinazione. È chiaro che valorizzare Castel Sismondo è stato un atto dovuto, è stato giusto togliere il parcheggio, io sono pienamente d'accordo, chiaramente sarebbe stato anche meglio togliere quelle osceni marmi rosa che sono stati messi di fronte e che non c'entrano nulla e che abbruttiscono ulteriormente, non c'era assolutamente bisogno, quindi abbruttiscono la scena di Castel Sismondo, però è giusto l'intervento che viene fatto, è giusto l'intervento di valorizzazione e chiaramente non posso essere d'accordo sul dedicare Castel Sismondo in pianta stabile al Museo Fellini, anche perché, ripeto, il Museo Fellini noi ce l'abbiamo già e abbiamo speso tanti soldi per fare il Fulgor, perché io ricordo ai telespettatori che il Fulgor, dove sotto c'è il cinema, però il primo e il secondo piano sono adibiti a Museo Fellini, dico bene, Museo Fellini, quindi noi adesso utilizziamo quello per Museo Fellini, ma siccome l'hanno fatto male, hanno ricavato un piano in più che non c'era bisogno, adesso le installazioni che volevano mettere non ci stanno perché hanno abbassato troppo il soffitto, sostanzialmente, hanno bisogno di ampi spazi e dov'è che facciamo, dov'è che utilizziamo questi ampi spazi? A Castel Sismondo, così, Castel Sismondo che poteva essere utilizzato per mostre temporanee, poteva essere utilizzato per allestimenti, probabilmente che cercano di ricordare, perché io dico una cosa, ogni volta che io vado in una città italiana c'è sempre l'eroe locale, c'è sempre il personaggio locale importante, se voi andate al castello estense di Ferrara è tutto dedicato all'interno, al di là delle mostre che ci sono temporanee, è tutto dedicato alla famiglia estense, alla signoria degli estensi, ma scusate, non era naturale e ovvio fare la stessa cosa a Rimini, dedicare in pianta stabile una parte del castello alla signoria dei Malatesta, signoria importantissima, adesso non sto qui a parlarne, però un'altra volta potremmo ragionarci alla signoria dei Malatesta, in particolar modo alla figura principale di Sigismondo Pandolfo Malatesta e poi col resto del spazio che rimaneva per mostre itineranti come sono state fatte in passato, magari anche in modo diverso, anche relativamente mostre come fa, per esempio, Forlì, come fa Forlì, che fa delle mostre che davvero, ho capito, non abbiamo più la fondazione, ma ci sono anche dei privati che magari vorrebbero investire, oppure l'art bonus, si parla tanto dell'art bonus, facciamo delle mostre come fa Forlì a Castello Sismondo, anche di contemporanei, non soltanto di Caravaggio come stanno facendo adesso, queste sono le idee che mi piacerebbe portare nel dibattito, però Gnassi decide da solo. Alcuni punti, intanto sulla reda del castello esterno, sostanzialmente abbiamo intanto recuperato una piazza che non lo era più, quello di questi muri bianchi, citati solo in questo modo qui, è chiaro che non rendono idea, il muro bianco segna il perimetro della corte a mare che è sparita nel tempo, quindi il perimetro segnato da questi muri bianchi, sedute bianche, chiamiamole così in meglio, così puoi vedere sia teatro che il castello comodamente, sono il segno, la traccia delle fondamenta della corte a mare del castello, quindi è un percorso ricreato apposto per far capire le dimensioni, la struttura del castello, per cui è, la scelta del marmo non le piace? Mattoncino si poteva fare come il resto. Mattoncino, legno, materiali sintetici, è stato scelto quello insieme a sovra tendenza. E questo è un punto. L'altro punto è le funzioni del castello Sismondo. Anch'io, quando è stato proposto l'altra parte del Museo Fiolini, cioè quello più virtuale, quello tecnologicamente più avanzato, avevo delle perplessità, però è l'unico modo, quello tecnologicamente avanzato, di poter usare una struttura antica senza doverla devastare, come fecero altri che hanno gestito le mostre all'interno del castello, sovrapponendo le pareti di mattoni che sono stupende, contro pareti di legno. Ecco, quello era uno stupro dell'ambiente del castello. Quello sì che era uno stupro strutturale del castello. Oggi si interviene, si fa un intervento di musealizzazione di Fellini attraverso le nuove tecnologie che è tutt'altra cosa, hanno tutt'altro sapore e tutt'altro tipo di intervento all'interno del castello. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un domani che si decida, non so per quale motivo, o per un motivo più valido di interrompere questa relazione fra Fellini e il castello, il castello rimane, essendo rimasto così com'è come struttura e quindi non invasa, potrà essere immediatamente riutilizzato per qualsiasi altro tipo di intervento o di musealizzazione. E così sarà fatto? Io sono d'accordo che va fatto un lavoro specifico, anche all'interno del castello, ritengo opportuno, e è una cosa che ho già detto, quindi la mia posizione la conoscono già anche in maggioranza, era opportuno destinare almeno una parte del castello a Sigismondo e hai malatesta, perché è vero… È una bestemmia, è una bestemmia, Massimo ti davano nel Museo della Piada, del Sardoncino. Ecco, adesso io non sono abituato a parlare su provocazioni e non mi interessa neanche rispondere. Una battuta dai. Però io condivido l'idea che ci debba essere un museo dedicato a malatesta, perché Rimini è Rimini perché ci sono stati malatesta, punto, no? Come Rimini è Rimini perché ci sono stati i romani, come prima era perché ci sono stati i filanoviani, gli etruschi… Bravo, bravo. Cioè, abbiamo tanta storia da raccontare. No, perché c'è stato Gnassi o io… Beh, Gnassi, insomma, sta facendo la sua parte, anche lui della storia di Rimini, volente o non volente lo sta facendo, con fronte ad altri sindaci che invece sono passati la storia per non aver fatto nulla. Per averla distrutta. Per non aver fatto… ecco il punto, non solo non aver fatto nulla, ma averla distrutta, con gli interventi di Viganò, come accennavamo prima, il progetto è completamente sbagliato, la mia battaglia su Viganò è proprio quella, siccome tutto… Rischiamo di far corollare anche il ponte. Come è tutto sbagliato l'intervento, iniziamo a capire dove possiamo intervenire. Iniziamo, togliamo lo sperone, sono d'accordissimo, ci sto lavorando sopra, come ho detto prima… L'intervento di Salente è quello di Viganò a che anni? 70. A me è finito anni 70. Brutalismo. Era un tipo di architettura brutalista che andava di modo in quel periodo lì e Viganò era uno dei più importanti rappresentanti di questo tipo di interventi architettonici. Diciamo tranquillamente che l'intervento di Rimini è stato il più brutto, il più brutalista… Quindi quello è meglio riuscito dal punto di vista del brutalismo, ma è quello meno riuscito dal punto di vista tecnico e anche ambientale, perché effettivamente è invasivo e devastante e non va assolutamente mantenuto così come va, va adeguato… E ha obbligato la passerella oscena a farla diventare di mezzo metro, sostanzialmente… Che per intervento di qualcuno… Così sostanzialmente non è fruibile da parte delle carrozzine o di più di due persone. Ma diciamo che per intervento di qualcuno, visto che si sta allottando per tirar via lo sperone e quindi anche la scala che è sottostante alla passerella, quei perni che entrano nelle mura, che stanno tanto care a Rufospina, sono allungabili. Quindi nel momento in cui si interverrà per tirar via parte dell'opera di Viganò si potrà ampliare la passerella. Per intervento di qualcuno è stato fatto questo, si è ottenuto questo. Per cui un domani, appena si potrà, in accordo con la sovretendenza, intervenire sull'opera di Viganò, si potrà farla, riallargare la passerella per tutta la sua espressione. Bisogna tornare un attimo su Castel Sismondo, una domanda. Le installazioni felliniane occuperanno solo una parte del castello? Occuperanno tutto il mastio del castello. La parte dell'Ala di Sotto invece è destinata a mostre temporanee d'arte contemporanea che sia pittura, fotografia, scultura, installazioni, che saranno dedicate a fellini, mostre di artisti contemporanei dedicate a fellini e perché no, e perché no, anche malatesta. Però fellini sicuro. Beh, a quel punto lì il rapporto è diretto fellini-mala testa, a quel punto lì sei dentro un ambito in cui vivono entrambi in qualche modo. Quella parte lì, le due sale dell'Ala di Sotto verranno usate per questa funzionamento. Tra l'altro qualche giorno fa c'è stata un'intervista a Goldino, non so se ha avuto modo di leggere, era su un sito internet, Rimini 2.3. Io l'ho letta, non l'ho voluta citare, per carità di padre. In quale criticava, in maniera molto sobria comunque, su domanda specifica, la scelta di dedicare il castello, dove ricordiamo aveva organizzato delle mostre che avevano avuto molto seguito all'epoca in cui la fondazione aveva disponibile... Molto più della biennale del disegno. Diverse interamente a fellini, hai detto che è una scelta rischiosa, se non sbaglio. Io sottoscrivo. Anch'io. È rischiosa, ma se non si corrono mai i rischi e non si fa mai niente. Ma io devo dire una cosa, Polazzi, che le perplessità di Frisoni me le tengo e me le cullo bene, sono molto contento di queste perplessità perché sostanzialmente, implicitamente, lui non lo può dire, ma vanno nella direzione nella quale sono andato io e quindi sostanzialmente fanno capire che la mia idea, il mio modello di città è quello giusto perché sostanzialmente non si può pensare di avere una città monopolizzata, monotematica. Monotematica. Noi qui stiamo parlando di Fellini che monopolizza tutto, monopolizza tutti quelli che Gnassi chiami contenitori culturali che io chiamo monumenti e soprattutto abbiamo un'arte di fuori di Fellini che è un'arte contemporanea dedicata a Fellini, l'avete sentito. Stiamo parlando anche, anche, no, sicuramente a Fellini e forse eventualmente anche a qualcun altro, ma alla fine non è dedicata a nessun altro. Cioè, quindi stiamo parlando, come al solito, evidentemente io penso che Gnassi, siccome non ha mai visto un film di Fellini, perché nei film di Fellini, lo ricordo, ma l'ho già detto anche in Consiglio Comunale, si vuole chiamare per smentire. Sì, ma secondo me non li hanno, no, ma se li hanno guardati non li hanno capiti a fondo, perché Fellini critica proprio il provincialismo di Rimini, ci critica in modo aspro, ma correttamente, perché aveva colto nel segno, Fellini, che è un grande regista, critica il provincialismo, critica l'incapacità di progredire di questa città. E questo è quello che noi stiamo oggi, stiamo sostanzialmente confermando tutte le sue critiche. Lui nei vitelloni rappresenta questo ragazzo che invece aveva più voglia, aveva voglia di nuovo, aveva voglia di vivere, che se ne deve fuggire da Rimini, deve andare a Roma, perché Rimini è una città sostanzialmente morta. Ecco, bene, continuando con questo tema, mantenendo Rimini per quello che è, per il mare, per la Brandina, per i sardoncini, per la Piadina, per il DJ7 e per Fellini, noi non facciamo altro, non facciamo altro che svilire la nostra storia, la nostra cultura e non progredire mai, perché noi queste cose ce le dobbiamo tenere, ma dobbiamo anche sapere progredire. Io però posso testimoniare un fatto, io ho avuto lo studio, il mio studio d'artista, per nove anni nel Borgo San Giuliano. In quegli anni 90 girava voce in tutta Europa che la casa di Fellini fosse nel Borgo San Giuliano. Perché? Perché durante la festa dei Borg, dentro tutto il Borgo avevano fatto questi murales dedicati a Fellini. Dedicati a Fellini, sì. Allora io sono testimoniato del fatto che tutti i turisti, tutti i turisti stranieri che per caso arrivavano lì perché avevano sentito dire che c'era la casa di Fellini, venivano a cercare Fellini. Allora, su un punto ha ragione il nostro sindaco, che Fellini è un punto di forza a livello internazionale. Un altro nome così, per quanto grande sia giustamente ritenuto da lui, ma anche da me, Sigismondo Malatesta, un appeal così a livello internazionale, Sigismondo non ce l'ha. L'ho detto anche in Consiglio Comunale. Per colpa nostra, di noi ribinesi, perché l'abbiamo tenuto nell'angolo, da sempre. Perché rappresentava... E togliamolo dall'angolo. Perché rappresentava, c'era una certa ideologia. Oh, bravo, bravo, bravo. Giusto. Ma allora usciamo da questa logica. Però sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Però non è che io dico, faccio un museo di Sigismondo Malatesta e non pensi di fare una cosa di nicchia. Perché fai una cosa di nicchia anche in quel caso lì. Molto di nicchia. Ma valorizzi la tua storia, valorizzi i tuoi monumenti. Ribadisco. Restauri le cinte murarie che si stanno sgretolando. Mettiamo un po' di soldi lì. Come detto prima, come sai, ho anche votato astenuto. No, hai votato anche a favore una volta. Una volta anche a favore, per cui insomma, su molte cose condividiamo dei percorsi. Sì, sulle mura ci si sta lavorando. Stiamo mettendoci un progetto che è enorme. Non è che si può oggi decidere di fare le mura e domani sono fatte. O in un mese lo fai, o in un anno le fai. Sì, però non stiamo parlando di milioni di euro. Stiamo parlando, stiamo parlando... Odio adesso, per carità, a fare le cose... Non si parla, purtroppo, non della cifra che vi ha citato in Consiglio Comunale, ma almeno di tre volte tanto. Tre volte tanto. Quindi io avevo citato 400 mila. Quindi un milione e due. Io avevo citato 400 mila per fare un lavoro di sistemazione sommario. Un milione e due. Comunque stiamo sempre parlando di cifre... Cioè, scusatemi, ma noi abbiamo un bilancio di 150 milioni. Un milione e due lo possiamo trovare. 150 mila euro, quindi capisci che c'è una... Non è che c'è molto... Non c'è tanto pane, capito? Certo, dobbiamo fare delle scelte politiche di destinare delle risorse, soprattutto quando si aumentano le tasse, almeno... L'altro punto è proprio questo. Adesso bisogna mettere al centro dell'attenzione a Rimini la cultura. Ma per metterla al centro dell'attenzione va messa al centro dell'economia. Perché solo così puoi ottenere e fare progetti importanti. Da Fellini a Sigismondo Malattesta, alle Mura... Anche perché mi sembra di capire che dagli eventi culturali e anche dai monumenti a Rimini monetizza poco comunque anche. Zero, non monetizza nulla. A questo punto, guardando anche i bilanci, insomma. Allora, purtroppo si sa che con la cultura non si campa. Ma non è vero, ma non è vero. No, è verissimo. Venezia campa. Venezia è dovuta arrivare a fare i tornelli perché se no non campava più la città. Purtroppo è vero anche il contrario. Siamo l'una parla. Siamo l'una parla. Purtroppo, Venezia è Venezia, ragazzi. Non è che puoi fare il paragone con Venezia o con Roma. Però forse un pochino di più si potrebbe limare. Si può fare. Si può fare. Il problema è che la cultura comunque costa. Quello che costa moltissimo nella cultura è la gestione della cultura. Perché tu fai un evento, hai un tot di personale, un tot di consumi, di energie, di spazi. Sì, ma le mostre di fotografie su Fellini non costano. Non costano. Tutta la cultura costa. Allora spendiamo dove... Allora, si è fatto una scelta. L'assessorato ha fatto una scelta. Si è fatto una scelta, questo lo sappiamo. Ha fatto una scelta. E quella scelta stiamo sostenendo. Ok? Ah beh. Però la politica è fatta di scelta. A un certo punto, questa amministrazione qui ha fatto quella scelta lì. Noi faremo diversamente. E faremo diversamente. Anche perché questa città... Hanno vinto in Friuli, pensano di poter... Beh, fosse solo in Friuli. Questo modello di città è una città Luna Park. Noi vogliamo andare contro il modello di città Luna Park. Ci può stare la parte del divertimento, ci può stare la parte di idealizzazione e di divizzazione di personaggi importanti, quali sicuramente anche Fellini, ma non si può appiattire tutto su questo. Non si può. Abbiamo altro ed è molto importante. Noi abbiamo una piazza, ne dico soltanto una così, Piazza Tre Martiri, dove probabilmente è stata la piazza in cui Giulio Cesare ha raccolto le sue truppe e ha pronunciato la famosa frase Il dado è tratto. Ce l'abbiamo tra l'altro come simbolo del nostro comune, alia Iacta Est, nel gonfalone comunale. All'estero e in Italia questa cosa si sa. Addirittura ci hanno anche scippato da Gradara il castello di Paolo e Francesca quando si sa che storicamente non può essere perché il castello di Gradara è stato edificato in data successiva alla vicenda di Paolo e Francesca. Noi da questo punto di vista, sul turismo culturale che davvero avrebbe, noi dovremmo avere la rocca dell'amore, non la rocca di Fellini. Quella dovrebbe essere la rocca di Paolo e Francesca. E invece ci mettiamo Fellini e i fotografi moderni che fanno gli allestimenti su Fellini. Mi rendete conto, qui noi hanno fatto un falso, ma perché noi non facciamo niente. È chiaro che nel momento in cui chi è titolare, chi è titolare, ma certo, ma neanche io ci sto, però chi è titolare effettivamente della storia reale dovrebbe valorizzarla. Se non la valorizza lui c'è il falso che se ne appropria e se la ruba. Perché loro dicono c'è un bellissimo castello e un castello malatestiano, facciamo il castello dell'amore Paolo e Francesca. E quanta gente ci va a visitare, a gradare proprio per questo motivo. Perché noi non utilizziamo questi, questi sì che sono motori importanti. Su questo noi potremmo edificare una cultura non soltanto locale, una consapevolezza locale, ma anche un'economia che porti denaro a Rimini. Perché noi viviamo... Verona è bastato un terrazzino. È bastato un terrazzino a Verona, anche quello falso. Cioè vi rendete conto? Ma Fredore sta dicendo, sta dando ragione soltanto alla mia tesa. Non abbiamo ancora parlato del teatro. Cioè ci spostiamo di fronte al castello e ci spostiamo in teatro. Io volevo farvi sentire, perché qualche settimana fa, qua in studio, c'era un vostro collega, il consigliere Zilli, si parlava di turismo, e ha parlato del teatro e della gestione del teatro, avanzando alcune perplessità. Ve li faccio sentire, così poi magari partendo da qui ne discutiamo. Il problema è che noi ci troviamo motori culturali che a volte assomigliano a contenitori culturali. Perché noi andiamo a vedere, certamente l'investimento del teatro Galli ci dà pregio, ci dà prestigio. Siamo tutti fieri che questa amministrazione, e in verità anche quelle prime, abbiano contribuito all'apertura del Galli, al quale verrà in divenire. Però noi parliamo di 33 milioni di euro per la ristrutturazione, o meglio la ricostruzione in verità, del teatro Galli, ma non sappiamo ancora che cosa avverrà all'interno del teatro Galli. Non c'è mai stato detto, non c'è un'idea. Noi sappiamo che per accedere ai fondi previsti per i teatri di tradizione o per le fondazioni del Ministero dei Beni e attività culturali, noi abbiamo l'obbligo di fare lirica, sinfonica, balletto e teatro. Noi però ancora non sappiamo come riempiremo. E la gestione di un teatro, e i teatri lo raccontano in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, la gestione dei teatri è complicata, non è una cosa semplice, il rischio del teatro Galli è quello di trovare una stagione trionfale, perché sicuramente sarà una stagione trionfale l'apertura, che però andrà a scemare piano piano nel tempo. Ed è questo quello che va evitato. Il tema della gestione... Sì, eravamo già partiti con la sigla, abbiamo gli effetti speciali. Il tema della gestione è un tema importante, anche perché è arrivata la nota qualche settimana fa, una decina di giorni fa, di chiusura dell'ultima stagione del Novelli, di 26 mila spettatori, si dice una dota importante che verrà traghettata al Galli. Abbiamo sentito in apertura il sindaco che diceva, sempre incrociando le dita, probabilmente a novembre dovrebbe esserci l'inaugurazione del teatro, però il tema della gestione è un tema importante, perché diciamo che tra Novelli e Galli qualcosa cambia. Frisoni. Certo. Beh, intanto, appunto, incrociando le dita a novembre, finalmente la città potrà rigodere di un bene che mancava veramente da troppo tempo. Grazie anche alle amministrazioni precedenti, ma sicuramente la volontà del sindaco a portare avanti il progetto, perché poteva anche dire di no, che non interessava più, e quindi risparmiare, come dire, andiamo a risparmio e non facciamo il Galli. Ha proseguito un percorso iniziato e si sta portando al termine. La certezza, come diceva anche prima il Consiglio di Resigli, è che sicuramente ci sarà un moto di partecipazione iniziale molto, molto forte. Il problema è mantenerlo. Su questo sicuramente ha ragione. La gestione, la programmazione, oggi non si sa. Sicuramente so che dopo la metà di maggio ci sarà la presentazione alla città non so se del programma o del progetto che c'è, quello delle famose, non sono quattro spettacoli, ma sono tre spettacoli in realtà, per entrare all'interno del circuito dei teatri di tradizione. Il come va ancora, si sta decidendo, perché dipende il come, io non lo sapevo, ma anche da come sono stati fatti i lavori, se con partite di giro, con non partite di giro, con risparmio dell'IVA. Ecco, quello inciderà moltissimo anche sulla gestione che la dovrà fare, se la dovrà fare direttamente in comune o si potrà già fare una fondazione o decidere altre formule di gestione. È un tema aperto, non è un tema chiuso, per cui io non mi facerei la testa prima di rompermela. Ci si sta lavorando sopra, tutti conosciamo la capacità del dirigente Piscaglia nella sua totale dedizione a questa opera e alla gestione della cultura Rimini. Tutti stiamo facendo affidamento su una persona molto affidabile che sta facendo tutta una serie di valutazioni necessarie appunto per non fallire, non per non fare in modo che dopo un anno di entusiasmo c'essi tutto. Io non credo, mi sembra per giudiziale, come dire, trattare l'argomento adesso che non si conosce ancora l'argomento, di cui non siamo conoscenze dall'argomento, però discussione se posso sempre fare su tutto, però mi sembra un po' troppo in anticipo com'è. Un discorso anticipato. Sì, un discorso anticipato, io condivido quello che ha detto Davide, quello che ha detto anche il collega Zilli e sicuramente penso che non ci saranno problemi dal punto dell'immediato, nel ritorno, nella risposta della cittadinanza all'apertura del teatro lirico, perché Rimini ha fame effettivamente di cultura, ha fame di teatro, ha fame di teatro lirico, di sinfonica, ha fame di queste proposte che in effetti sono sempre state poche in passato e quando ci sono state, penso non soltanto al Novelli, che chiaramente è un teatro di prosa, ma alla sagra musicale malatestiana che più o meno è l'evento più avvicinabile a quello che dovrà essere il contenitore del teatro lirico, modulato su una decina di eventi sostanzialmente all'anno, vedo che ha comunque sempre un ritorno enorme in termini di partecipazione, non vedo mai il sindaco, questo mi dispiace. Mi dato solo quando sono partito il sindaco, probabilmente. Sì, ecco, forse è perché l'hai portato un lato e non incontro. Però penso che il teatro avrà quindi un ritorno di frequentazione da parte della cittadinanza molto alto, anche perché, ripeto, abbiamo fatto un teatro piuttosto piccolo come numero di posti a sedere. Il dovere com'era? No, non era il dovere com'era, abbiamo ridotto il numero dei posti, ma questo, ripeto, può essere anche un bene perché, se non sbaglio, certo, per le nuove norme, non sto dicendo che l'avete sbagliato, è stato giusto, è stato imposto dalle nuove norme sulla sicurezza, quindi abbiamo un numero di posti a sedere che, se non sbaglio, siamo attorno ai mille, un po' meno di mille. Siamo attorno agli 8,50. 8,50, poi dopo ci sono i palchi. Mettiamo, siamo sotto i mille e la saga musicale Malatestiana ha numeri superiori, ecco, quindi, se tanto mi dà tanto, io penso che non ci sarà nessun problema a sostenere il teatro. L'unico problema che dovrà affrontare il consiglio sarà la gestione diretta o la gestione, invece, tramite fondazione propria o tramite gestore esterno con un bando. Io penso che siano questi i tre grandi motivi e i tre grandi temi che ci dovremo porre all'attenzione nei prossimi mesi. Però sul fatto che quel teatro avrà una gestione che chiaramente dovrà pian pianino partire con 4, 5 spettacoli e poi man mano nel corso degli anni aumentare l'offerta, quindi gradualmente, un po', mettendo prima la prima, la seconda, arrivando soltanto dopo un po' di tempo in quinta, è che io penso che non avrà nessun problema. Io confido, sono un ottimista di natura. Intanto possiamo anche dire che non è un teatro che può essere dedicato solo all'opera, cioè è stato strutturato in modo che possa ospitare anche molti tipi di musical, spettacoli rock, cioè vuol dire, è strutturato in modo a poter ospitare molte tipologie di spettacoli, per cui, oltre alle sagre musicale Malatestiana, o l'opera teatro, la sinfonica e tutto, potrà essere anche, come dire, riempito anche nei buchi che normalmente ci sono in altri teatri, invece con tutto un altro tipo di iniziative anche più diverse. Quando è arrivata la notizia, insomma, il bilancio del Novelli e questo traghettare, questa dote di 26.000 presenze verso il Galli, molti però ci hanno chiesto, e sono arrivate delle domande anche adesso, ma il Novelli che fine farà? Ma si sa? Al momento no, o almeno io non ho notizia della fine che farà Novelli, sicuramente però c'è, vorrei dire anche un'altra cosa, che nel frattempo si va anche a recuperare la storia. Esatto, c'è anche il tema della storia. Che fu strutturato quella volta per essere teatro, quindi è già strutturato come due sale teatrali separate, c'è già un primo piano di intervento per recuperare tutto il foietto, tutto l'ingresso e la sala piccola, con la previsione di recuperare anche la sala grande. Su questo si sta già lavorando, si stanno già anche condividendo progetti con giovani registi teatrali, che probabilmente quella è la sede che si potrà usare veramente per fare sperimentazione teatrale, compagnie piccole, anche molto dinamiche, anche molto leggere dal punto di vista organizzativo. Ecco, ci saranno queste due possibilità. I novelli non ho avuto notizie di recupero, di gestione parallela? Non si sa. Al momento non si sa niente. Io spero che tutti questi contenitori, come li chiama il sindaco, questi teatri rimangano in gestione comunale, perché soltanto la gestione comunale è garanzia di correttezza, legalità, ed evitare che vengano dati… Allora, o lo si dà in appalto al privato che paga una locazione, che paga una concessione e ci fa impresa in questi luoghi, impresa culturale, come stanno facendo la famiglia Zanni con il Fulgor sostanzialmente, o altrimenti si deve essere dato alle solite associazioni gratuitamente, come facciamo con tutti i nostri altri immobili, la palazzina di Via Nigra, la Casa della Pace, eccetera, gratuitamente alle associazioni per scopi che alla fine non si capisce bene quale ritorno hanno nella collettività, io spero e ritengo che rimangano in gestione diretta al comune, settore cultura, che li destini, appunto, come ha detto anche Davide, a sperimentazioni teatrali, perché è molto importante far crescere la consapevolezza della cultura, del teatro, della poesia, di tutte queste arti che a Rimini sono sempre state poco considerate, soprattutto nei giovani e quindi la storia, se avrà questa destinazione, troverà sempre il mio voto favorevole, nel qual caso invece, nel caso contrario, in cui come io penso e temo, invece sarà dato come al solito in gestione, nelle solite cooperative e associazioni culturali di tendenza, gratuitamente con spese pagate sempre a carico del comune, quindi ad associazioni terze organiche al Partito Democratico, ecco, in quel caso ci sarà il mio fermo rifiuto. Lo dico chiaramente perché questo vale per la storia e vale anche per Novelli, che deve rimanere nella sua collocazione di motore culturale di Marina Centro, perché altrimenti Marina Centro ha soltanto locali notturni in discoteche e non ha più un teatro, direi di no. Bisogni? Ha sentito, l'ha già avvisata su quello che dirà in consiglio? Ho già risposto fuori telecamera, vigileremo, nel senso che anche io sono d'accordo che è già stato fatto molto per l'associazionismo, in maniera gratuita, io sono dell'idea che gratis non va mai bene per nessuno, per nessuno gratis non va mai bene, perché vuol dire togliere valore alla cosa che uno fa, non solo alla cosa che ti viene concessa, ma anche alla cosa che tu fai, perché anche tu non dai il valore giusto, perché se quello che tu fai va solo contro l'economia degli altri, è sbagliato. Per cui è un percorso che è molto diverso da quello che è stato fatto fino ad oggi, lo so, lo so bene, ma io concordo pienamente, cioè una struttura come quella della storia non può andare a finire in quel tipo di gestione così. Su Novelli io credo che sia complicato per un'amministrazione comunale poter gestire tre strutture teatrali. Tra l'altro per una realtà come Rimini che non è così. Che è piccola, sostanzialmente piccola, ancora oggi non troppo attrattiva da quel punto di vista lì, dai teatri. E fai cose diverse. Sì, però costano tutte, costa tenere all'opera un teatro, anche se non ci fai niente dentro, ma solo la manutenzione ha dei costi esagerati. Per cui non lo so, adesso valuteremo, valuteremo. La manutenzione c'è, insomma. Ma c'è bisogno, c'è bisogno tanta manutenzione a Novelli, anche perché, insomma, con l'apertura del cantiere, del Teatro Galli, anche a Novelli mi sembra che sia stato un po', dal punto di vista... Tutte le vissure si sono state dirottate. È stato dirottato di qua, per cui adesso si faranno tutte le valutazioni del caso, ci lavoriamo sopra, Rufo sai che io quando mi prendo l'impegno poi lo seguo, però oggi come oggi la vedo difficilissima poter gestire tre spazi teatrali così importanti a Rimini. Poi vedremo. Se mi arrivassi in conclusione volevo aggiungere... Volevo soltanto aggiungere che l'importante è che siano complementari, cioè gli spazi si possono mantenere nella misura in cui sono utili e complementari. Quindi una cosa potrà diventare il teatro lirico, una cosa potrà diventare il Novelli, l'altra cosa potrà diventare la storia. Se si dà una complementarietà, una diversità di funzioni, si può mantenere tutto, perché ripeto, la qualità della vita poi per i riminesi la fanno anche e soprattutto queste cose, non soltanto la spiaggia e gli eventi spot e il Luna Park. Concludo una cosa sull'associazionismo, l'associazionismo dal mio punto di vista è utile soltanto intanto in quanto il tempo e i soldi lo mettono i privati associati. Non deve essere il solito assistenzialismo a carico dell'ente pubblico, perché altrimenti non c'è la finalità stessa dell'associazionismo. Io faccio associazionismo perché voglio fare volontariato con i soldi miei e col tempo mio e mi spendo agli altri per questo. Non sto a carico della comunità per avere soltanto una ragione d'essera o il mio angulus appartato per poter fare quello che voglio, magari con le bollette pagate e magari anche col contributo di 20-30 mila Euro che mi elargisce il comune per farmi il fondo, le mie cosine, le mie festicciole. Non va bene. Io penso che almeno il nostro modello di città, quando governeremo Rimini, tutte queste realtà saranno completamente riviste, esattamente come è stato fatto a Riccione e saranno, dal mio punto di vista, completamente tagliate i finanziamenti e le concessioni gratuite di immobili comunali per queste associazioni. Io ringrazio Carlo Rufospino di Forza Italia, Davide Frisoni di Patto Civico, abbiamo parlato di cultura oggi, la prossima settimana ci ritroviamo con Fuori dall'Aula puntuale. Fuori dall'Aula, consiglieri comunali a confronto.